Inoltre, so che hai portato invece queste cose fantastiche, ti stai emozionando, dallo Malawi, vuoi spiegare tu che cosa sono? Quelle sono passatine che le ho portato dal Malawi, fatte dalle donne del Malawi. E viva Pangono Pangono, in Malawi si dice Zicomo, che vuol dire grazie. Grazie. Grazie a tutti.